In Italia nel 2021 la ripresa post-covid registrata dall'economia nazionale non ha ridotto la percentuale di italiani a rischio di povertà. E' quanto emerso da un'indagine dell'Istat, il servizio di Damiana Dorotea Sgaramella. L'Italia non è un paese per famiglie. E' quanto emerso dall'ultima indagine Istat dal titolo Condizioni di vita e reddito delle famiglie. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica il Sud rimane la zona con la percentuale più alta di persone a rischio di povertà o esclusione sociale, stabile rispetto al 2020 e in diminuizione rispetto all'anno prima. In Puglia e Sicilia si riduce il rischio mentre in aumento in Campania per l'incremento della grave deprivazione e della bassa intensità lavorativa. Nel dettaglio gli italiani in difficoltà economica sono quasi 15 milioni, oltre il 25% della popolazione, un dato stabile rispetto a poco oltre al 25% sia del 2020 che del 2019. In condizioni di criticità si trova circa un quarto degli italiani e a soffrirne sarebbero soprattutto i nuclei familiari con minori. Il rischio di povertà o dell'esclusione sociale è maggiore tra gli individui delle famiglie con tre o più figli, poi tra le persone sole ed infine nelle famiglie con un solo genitore. Inoltre circa 3 milioni 300 mila persone vivono una situazione di grave deprivazione materiale, e cioè presenta almeno 4 dei 9 segnali di deprivazione individuati dall'indicatore Europa 2020. Mentre oltre l'11% degli individui vive in famiglie a bassa intensità di lavoro, con componenti tra i 18 e i 59 anni che hanno lavorato meno di un quinto del tempo. Per quanto riguarda il livello medio di reddito netto delle famiglie per il 2020, l'Istat lo fissa a 32.812 euro annui. Gli interventi di sostegno, come il reddito di cittadinanza e le altre misure straordinarie, ne hanno limitato il calo. Si stima infatti che il reddito di cittadinanza abbia raggiunto oltre 1,3 milioni di famiglie, con un beneficio annuo di 5.216 euro pro capite. Nello specifico, oltre il 10% delle famiglie residenti nel mezzogiorno ha ricevuto almeno una mensilità del reddito, quota nettamente superiore a quella registrata nel nord-est, nord-ovest e nel centro.